Amici di Infiniti Racconti Beh, nonostante io e Rude abbiamo la stessa età Beh, sicuramente Rudin è quello che sta invecchiando peggio E no, no, non è per i capelli bianchi Anche se, beh, l'avete visto? Adesso è un bonzo con la capa rasata rasata Perché, insomma, lo stanno abbandonando No, ma è per la memoria Infatti Rudin sta perdendo colpi di memoria Infatti io non ne sapevo niente Ma a quanto pare per domani Ore, diciamo, 21.30 Perché prima devo andare in palestra Per mantenere il fisicaccio che porto Quindi per le 21.30 Ci dovrebbe essere una diretta Sempre sul nostro canale JustinTV E sempre con noi di infiniti racconti Ci dovrebbero essere anche due ospiti A sorpresa, ma di cui non conosco l'identità Sempre per il motivo per cui Rudin sta perdendo colpi in continuazione Quindi, siccome sono anche da solo E io da solo non so mai che dire Vi do appuntamento per domani 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 20 settembre Alle ore 21.30 Sul nostro canale di JustinTV Se non sapete qual è il nostro canale Troverete tutte le informazioni Nella descrizione del video Quindi, ripeto, appuntamento domani Ore 21.30 Sempre con noi di Infiniti Racconti E ora Vi lascio che devo andare in palestra Anche oggi Salve ragazzi, a presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti